Ciao a tutti per la rubrica Esplora Città. Oggi parleremo di cucina. Infatti abbiamo fatto visita al locale che si chiama Amici Pizzi Kebab a Cagliari. Qui abbiamo incontrato Omar che ci ha raccontato come si svolge il suo lavoro e quali piatti propone. Come ti chiami? Sono Omar. Quanti anni hai? Quaranta. Che lavoro fai? Io sono Pizzeolo. Da quanto tempo fai questo lavoro? 12 anni. Quali tipi di cibi cucini? Cucina indiano e anche italiano. Cucina indiana, c'è le biryani, basmoti, samusa, poi pollo fitte, anche italiano c'è la tizza, poi calamari, poi kebab, poi pittura. Che tipi di carne ci metti nel kebab? Kebab pollo tacchino. Come si prepara una pizza kebab e quanto ci vuole per prepararne una? Prima la impasta, ok? Poi minimo 3-4 ore deve aspettare per fuori, dopo la frigo, poi 3-4 ore, minimo 24 ore per aspettare per fare quella pasta. Dopo la fare. Perché hai deciso di aprire questa attività? Perché io sono molto piaciuto per lavoro e anche cucina per pizza. Mi piace per lavoro, per mio lavoro, non per altre parti. Cosa facevi prima di fare questo lavoro? Prima ho studiato per lavoro, per digerire. Solo ho studiato cucina per l'italiano, anche il nostro. Qual è il tuo piatto preferito? Kebab e anche pizza, molto. Quale cibo italiano ti piace cucinare? Molto piace la pizza. Poi anche prima, l'antipasta, anche io faccio cucina per prima. E io capisco anche questo, ho imparato anche questo, sei mezzi. Come sono fatti Samosa? Samosa, fare per pasta fresca, fare mano, olio e sale, ok? Poi su gocciolo c'è la abitura, patate, carote, bigelli, cipolla, poi un po' piccante, poi cucinare. Grazie per tutte le informazioni, ciao. Grazie per tutti, grazie per lei, grazie, grazie mamma, grazie a tutti. Omar è stato molto gentile e ci ha raccontato delle cose molto interessanti e gustose sul suo lavoro. Ringraziamo Omar per la sua gentilezza e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao!